Da recenti indiscrezioni, sembrerebbe che Dustin Taylor, il ballerino ed ex allievo di Alessandra Celentano di Amici, abbia trovato l'amore. Ecco chi sarebbe il ballerino fortunato che gli avrebbe, rubato, il cuore. Questa edizione di Amici di Maria De Filippi, è stata un successone cosa che non sorprende più di tanto in realtà, è difficile trovare un programma della pupilla di Mediaset che non dà i suoi frutti. Lo share è assicurato e sicuramente con il talent ancora di più. I fan amano questo show, per questo lo seguono con ammirazione, anno dopo anno, senza mai perdersi una puntata. La stagione appena passata ha visto trionfare la cantante Sara Toscano, la quale si è aggiudicata la Coppa di Amici, facendo guadagnare la medaglia d'argento alla ballerina Marisol. La notizia che vogliamo riportarvi oggi però, non riguarda le due giovani, quanto il loro collega di avventura, Dustin Taylor, il quale avrebbe trovato l'amore, grazie proprio al programma, ecco chi è il ballerino in questione. Dustin di Amici ha trovato l'amore. Oltre all'indiscrezione trapelata sul presunto nuovo amore di Dustin Taylor, di cui vi parleremo a breve, adesso vi riveliamo i rumors che si erano concentrati su quello che sarebbe dovuto essere il nuovo amore di Giulia Stabile. La ballerina qualche giorno fa, era stata avvistata ad un evento pubblico, e in quel frangente si era fermata a parlare in maniera informale con l'attore spagnolo della serie trasmessa su Netflix, Elite, Manu Rios e il Patrick Blanco Commerford della storia. Dopo aver visto quel video social, i fan hanno iniziato a ipotizzare che tra i due fosse scattato qualcosa, in realtà a smentire questo rumor è stata la stessa stabile, la quale dopo aver riportato uno screenshot di un articolo in cui si parlava di questo pettegolezzo, ha scritto, ma magari, facendo capire che se mai capitasse non sarebbe per nulla dispiaciuta. Sicuramente il suo pensiero sarà condiviso da molte. Ad ogni modo, rumors a parte, Giulia ha da poco spento 22 candeline, godendosi gli auguri della famiglia, degli amici e dei suoi follower. Secondo l'esperto del gossip, Amedeo Venza, l'ex ballerino di Amici, pupillo di Alessandra Celentano, Dustin Taylor avrebbe trovato l'amore all'interno della scuola più amata di sempre. Dai rumors sembrerebbe che il suo cuore abbia iniziato a battere per Angelo Recchia, il ballerino professionista del Talent Mediaset. Il tutto sarebbe nato da uno scatto social nel quale i due si vedrebbero mano nella mano, da lì è iniziato tutto. Per il momento nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito questo flirt, quindi non si può dire nulla finché non otterremo una comunicazione ufficiale. Qualora i due realmente si stessero frequentando, sarebbe l'ennesimo centro di Maria De Filippi, la quale porta un po' di uomini e donne ad amici, sarebbe eccezionale non credete?